mentre di registro sto giocando ad osu mentre registra io devo dire e lei nel video ma anche non deve andare a prendere un pezzo di pane possiamo fare le persone mangiano nel video scherzo finito malissimo epico non è un scherzo etico non è uno scherzo ma non è uno scherzo mangiando una persona in di pronto una persona si affuga mangiando nel video a un popo youtube quello che state per vedere è un piccolo video su warms revolution insieme a neko mister nobest warwolf e polar che stranamente resta in disparte a mangiare spero davvero che questo video vi piazza ricordate di lasciare un like se volete altri video su questo gioco ed iscrivervi anche ai canali di coloro che hanno partecipato quindi buona visione è stato falle ma faremo adesso va in depressione perché di amore mi dispiace tanto io vedo fra cucine e che ho voglia di fare tu uno prende candela tanti auguri a te aspetta che questo si è tutto male e pari carini tanti auguri a te boom tanti auguri a te oh oddio sul barile esploderà perché tu vuoi come voi col sole adesso iniziano ad arrivare le 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 guado voce che I've come to talk with you again Ma che carmi mi ti sembra a meme Io li puoi uccidere te stesso Eh? Certo che l'ho uccido Si chiama suicidio tranquillo Però sono brava ti insegno se vuoi Non sai quante volte mi sono ucciso Hello darkness my old fuck Ma io old fuck Hai appena detto Ciao scritta Il mio timo ha scopato una roba del genere E quindi Ciao indie Non ti fidare di quello che dice lui È un nemico Massa masa mazza 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 di spiega ma devi farla prima no beh sono detto che deve passare la massa ma che dito non ho detto che deve che ha fatto nulla accetta e ammazzatela macchina ok appunto ma anche no grazie adesso vogliono tutti sta vede ma non so che sei infame perchè c'è una brutta persona ma sto dando perchè ha detto che stanno facendo una serie di decenni no non sto dicendo te Andy sto dicendo quello che sta puntando su non te ah quello che mi sta uccidendo in questo precedistante ecco diano best che è una brutta persona e che in realtà è una puttana oh mio eh vabbè grande cosa hai fatto guarda al stesso punto dove sono morto io quello è il buco dei decenni sentiti onorato come si chiamava? ti uccido non ti preoccupare tipo non ti uccido non ti preoccupare ti faccio solo soffrire non ti uccido ma ti blocco un buco da parte di voi ti odio pure ne ma ma la cosa bella è se ti uccide la mia macchinetta muoio anche io per... perchè si ma muoio anche io vero? si muoio anche io oh ma tutti con Giulio ce l'hanno no 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 perché tutti ce l'hanno con Giulio? ragazzi non ce l'ho con Giulio non ce l'ho con me non ce l'ho con me non ce l'ho con me e non c'è vento quindi il vento non mi salverà vendicami uccidili per mamma per mamma oh mio dio oh mio dio mi proteggi Giulio? ti ho vendicato proteggimi il problema è che adesso tocca a me mi sa sono il tuo alter il problema è che appena vi congerete che sono quella con 4 cose ancora in vita mi ucciderete hello hello oh mio dio mi sono appena su continui vado a fagliare ma del tipo ma del tipo se metti una dinamite poi butti butti via no perché io butti via solo uno uno quando li posizio via entrambi no gioia no gioia affermati ok ok colpicindi colpiscito ma perchè cosa ho fatto? se gli esistito prego ciao ti ho mai detto la definizione di follia e metterla dinamite doveva sotto il culo di nobeste e vanno perdere no la definizione di follia è ripeteremo continuamente un'azione pensando che cosa la manca lo so no uccidi giulio no no giulio non lo ucciderò mai no la devi uccidere dobbiamo uccidere indi ok ma no ma io ho portato giulio quindi se c'è qualcosa altro da mangiare indi tanto è già morto almeno così posso dire che l'india è morto hai ragione io sono morto guardane adesso vi faccio vedere come muoio grazie per la cassa ma fatti mandare dalla mamma a prendere le casse a prendere il latte sono molto confusa ma voi ho detto perfetto mettiamo la povera nego che non sa che cosa fai io so cosa fai il giro nella nozione ma perché mi ha di così tanto ma perché non posso colpire warwolf quindi colpisco te grazie mille adesso sono morto anche io ho assistito alla morte di un indi e di neko aspetta 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 cos'era questa reazione a catena è una combo preparata da me da ogni ora sono gli avevo piazzato proprio nel modo esatto per fare in modo che basta io non ne posso più colpisco lei porca 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 senta sei sicuro quella fosse la massa idatta? è la zona del suicidio alla fine tu morirai in quel buro non ti ucciderò prima calcola la parabola io non so calcolare le parabole quindi andrò con la mi bambini calcolo la spacherai no perchè? vabbè se muoere lui lo prendeci anche india in vero però non voglio attaccare gioglio no hai ragione e di vista che perdi vabbè vabbè la fantastica parabola no 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 quello quello è è da contare più tardi no perchè? minchia muori neko no un te come hai osato uno sei di fianco a a gioglio lol quanto mi hai tolto? due sono ancora viva con un verme e oh ok va bene tanto adesso vince 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 alla mafiosa in due mi dispiace ma dovrò cercare di uccidere sti giochi mi dispiace non è anzi sapete cosa è riuscito di fare? cosa? ehm no non è qua bel gioglio Vabbè non sono morta Sono rimasta con 10 di vita non è possibile E questo è lei Uccidimi Granata Dropping hand grenade Dropping hand grenade Ah ok ok mi ha coltito Ci sono quattro tombeli Quattro tombeli Con il dannato buco Te l'ho detto io È una posta comune Ma Giordano è inflitto agli amici 49 Io Ma io sono arrivato a seconda Com'è possibile che sono arrivato a seconda Io ne ho un'altra E qui finisce la prima parte su Worms Revolution Insieme a questi compagni abbastanza particolari Lasciate più mi piace possibile per poter continuare con la prossima parte E continuate a seguirmi per nuovi video e live Insieme a questo lupo pazzo E noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie.